Vi ringrazio prima di tutto per essere qui, stiamo facendo notevoli passi avanti sul programma di governo e stiamo portando avanti, stiamo trovando ampie convergenze su quelli che sono i temi che hanno a cuore gli italiani ieri si è discusso di reddito di cittadinanza, di flat tax, di legge Fornero, di questioni che riguardano la lotta al business dell'immigrazione del conflitto di interessi, quindi anche l'incontro di oggi è stato un incontro positivo perché ha fatto fare altri passi avanti agli italiani è la terza repubblica in cui come vedete si parla prima di temi, di nomi non abbiamo parlato, ne parleremo a breve ma domani si farà un altro incontro sul programma a Milano, al Pirellone, presso gli uffici del Movimento 5 Stelle e lì porteremo in un altro step, quindi porteremo ad un altro passo in avanti il contratto di governo che non sarà nient'altro che il programma del futuro governo del cambiamento, se riusciremo a metterlo in piedi speriamo di chiudere il prima possibile perché se poi non si chiude si torna al voto